La metafora del fuoco. L'anima è ciò che ci anima, cioè ciò che ci dà lo slancio vitale, il fuoco. Proviamo a pensare che cosa facciamo, cosa fa l'umanità nei confronti del suo fuoco interiore. Anzi, proviamo prima a pensare che cos'è questo fuoco interiore. Quello che ci fa brillare gli occhi, è quello che ci dà l'entusiasmo per vivere, è l'eros, è la passione creativa, è la passione che ci fa attrarre reciprocamente, è quella voglia di cambiare le cose, quella voglia di espandere i confini. E se noi ci guardiamo intorno, dove la vediamo questo? Lo vediamo per caso nei nostri politici, nei nostri scienziati, nei virologi che comprenano la tv, nei preti, nei cardinali. Dove vediamo questo fuoco? Se non in qualche raro personaggio un po' estruoso o se non nei bambini che giocano. E ci sembra così normale che il fuoco sia qualche cosa di trascurato, dimenticato, perché cosa c'è? C'è la realtà. C'è, ci sono le bollette da pagare, c'è appunto, c'è un'emergenza da superare. Il problema è che viviamo in emergenza da almeno da sempre. Ma da quando la storia è raccontata, sono millenni che si vive in emergenza. E allora abbiamo costruito una mentalità dell'emergenza. E la mentalità dell'emergenza, prima di tutto, deve reprimere il fuoco, deve reprimere lo slancio interiore alla realizzazione di sé. Anche se ognuno di noi si muove in questa direzione, però il sistema, chiamiamolo così, deve reprimere questo fuoco. Non tanto perché il sistema è cattivo, ma è nell'ordine delle cose, è il campo. Cioè, se tu hai uno slancio creativo, questo slancio creativo, questo fuoco deve essere mediato dal mondo. Però vediamo quindi quali sono le modalità con le quali questo fuoco può essere in dialogo col mondo. Pensiamo alla naturalezza, come fa il bambino. Il bambino segue questo fuoco, però non ha sufficiente capacità di gestirlo. E allora l'educazione che cosa fa? L'educazione tende a porre limiti, porre regole e tendenzialmente è un'educazione più o meno repressiva. Nella migliore delle ipotesi è un'educazione logica, razionale. È un'educazione che spiega i motivi per i quali certe cose non si possono fare. Ma ha qualcuno di noi ricevuto un'educazione alla naturalezza naturale? Un'educazione a dialogare con il mondo, con l'ambiente, a dialogare con le forze della natura, a dialogare con le nostre intuizioni, con i nostri sogni. Ora, e quindi ci sembra normale che la realtà, il sistema, debba in qualche modo modulare il nostro fuoco. Ma come abbiamo detto all'inizio, modulare il fuoco secondo un'ottica razionale, secondo un'ottica di morale, crea delle separazioni. E questo è il mondo così come è arrivato fino ad oggi. Nella migliore delle ipotesi abbiamo una buona etica che tende a controllare questo fuoco dando delle gratificazioni. È come se noi abbiamo una pentola che se la comprimiamo troppo ma c'è abbastanza forza, questo esplode. Se la comprimiamo troppo e non c'è sufficiente forza, muore. La vita dentro muore. E questo lo possiamo vedere anche come succede molto spesso intorno a noi. E allora la questione diventa quella di aprire delle valvole di sfogo. E questo è quello che la norma, la vita, nel spirito del tempo, compie. Questa è la nostra vita ordinaria. Dicevo, arriva una situazione d'emergenza e questo diventa talmente evidente. In una situazione d'emergenza le persone sono guidate dalla paura, sono guidate dal controllo del blocco delle emozioni. Ci sono delle ottime giustificazioni per fare questo. Ora, invece, questo momento sarebbe un ottimo momento per non perdere l'occasione, per accorgersi di quello che stiamo facendo, per accorgersi di questo, di come sia sempre più evidente questo che potremmo chiamare pensiero unico, che è basato su, per stare nella metafora del fuoco, sulla repressione del fuoco, sulla repressione dell'eros. Pensiamo a Reich, che già negli anni 30 del secolo scorso parlava della peste emozionale come repressione, lui la chiamava dell'energia sessuale, organica, libidica, no? La repressione dello slancio, dell'eros e del fuoco come elemento fondamentale di controllo da parte delle varie realtà istituzionali. Questo succede sempre ma noi molto spesso ci addormentiamo e non ce ne rendiamo conto. Allora l'invito è quello di accorgerci che se non guardiamo dalla separazione dal nostro fuoco, se non seguiamo ciò che ci fa brillare gli occhi, se non ci chiediamo ma che cosa sto facendo, anche di come sto rispondendo a questa situazione di emergenza. Aspettando che passi, un tempo c'erano quelli che suonavano sui balconi dicendo andrà tutto bene, no? Torneremo alla normalità. Eh, torneremo alla normalità, è questo che ci possiamo aspettare. Oggi è il giorno del sostizio. Come celebriamo? Come celebra la nostra società? Il sostizio. Si dice che una società che perde le cerimonie, perde la sua anima, celebrare, festeggiare, ricordare, partecipare ai cicli della natura. Dove e chi? Abbiamo mai sentito qualcuno tra tutti i soggetti invitati in questo anno e mezzo in televisione parlarci di avere dimenticato la celebrazione della natura, avere dimenticato i ritmi, le cerimonie, avere dimenticato ciò che ci fa brillare gli occhi, avere dimenticato il nostro fuoco interiore. Questo vuole essere un po' un invito sul nostro fuoco, fatto di creatività, di slancio, di ardore, di passione, di occhi che brillano, di cuore che batte, di quella cosa che spero tutti quanti noi abbiamo vissuto quando ci siamo innamorati le prime volte. Perché mai dobbiamo rinunciare a una vita brillante e animata dal fuoco dell'eros? E non potrebbe essere questa l'occasione buona. Non torniamo alla normalità. Oggi mi hanno mandato un post nel quale questo imprenditore diceva il salario è la droga che ti danno per annebbiare i tuoi sogni. Diritto al lavoro? Ma certo, diritto al lavoro. Certo, avere un salario. Certo. Ma non ci siamo mai interrogati. Per lo meno io ho pazienti da 40 anni. Ma se io dovessi dire, forse l'80% dei problemi, il principio problema del paziente è il lavoro che fa. E ci sembra normale? Ci sembra normale che qualcuno debba desiderare di avere un lavoro per potersi mantenere, per pagare le bollette e vivere una vita nella quale ha dimenticato i suoi sogni. Perché i sogni sono quelle cose che hai da bambino e poi ti svegli a un certo punto. Quindi, chi lo sa, è certo che con qualche ora online non cambiamo il mondo. Però forse accendiamo qualche scintilla di questo nostro fuoco. Ci svegliamo un attimo e diciamo, aspetta un po', cosa sta succedendo davvero? Se pensate, vi faccio solo vedere, poi così chiudo che magari è già ora di chiudere, faccio questa condivisione. Strategia di manipolazione delle masse, creare problemi e offrire soluzioni, ma farlo in modo graduale, differire, rivolgersi al pubblico come se parlassi ai bambini, usare l'aspetto emotivo più della riflessione, mantenere il pubblico nell'ignoranza e nella mediocrità, stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità, rafforzare l'autoconsapevolezza, conoscere individui meglio di quanto loro stessi si conoscano. Forse dovremmo cercare di accorgerci e di uscire un po' da questo gioco. Forse dovremmo farci guidare un po' di più dal nostro fuoco interiore e chiederci come, quando e dove lo seguiamo e come, quando e dove ce ne stiamo dimenticando. E allora forse tutto questo sarà successo per qualche cosa, senza stare a prendere posizioni, ma sarà un effetto collaterale poi le nostre scelte individuali, legittime tutte quante, ma chiediamoci dov'è il nostro fuoco.